Senatore Tabacci, lei è l'ideologo, così è stato definito, di questo nuovo movimento politico Alleanza per l'Italia. Ecco, un movimento politico indubbiamente schierato con il centro-sinistra dalla parte del PD. Come vede questo futuro immediato? Adesso vi siete riposati, siete venuti a fare queste vacanze al labbro, ma l'agone della politica romana ferve di iniziative, di movimenti spesso tellurici, visto il momento particolare che attraversiamo. L'ideologo è una parola un po' grossa, che noi siamo qui per riposarci, dipende dai punti di vista, in realtà in questi giorni siamo qui per lavorare con una certa intensità sui temi politici del momento. Per quel che riguarda la condizione di salute della politica italiana basta guardarci indietro, basta pensare a come è stata trascorsa l'estate, ci siamo lasciando dietro le spalle e uno fa presto a rispondersi. Mi pare che è uno squallore più evidente di quello che abbiamo vissuto in queste settimane, è difficile riproporlo. Lei pensa che agli italiani piaccia sapere quanto è grande la casa di Monte Carlo, di quante camere è composta, chi l'ha comprata, chi l'ha acquistata? Non ci sono problemi impellenti che voi indubbiamente dovete richiamare all'ordine? Io penso però che gli italiani si sono fatti un palato sempre più inadatto a gustare una politica di qualità, perché diciamo che talvolta hanno addirittura anticipato la cattiva politica con i cattivi comportamenti e questo è un problema molto delicato che tocca la morale di un paese, la sua etica pubblica, il fatto che noi, molti di noi sono convinti che si può vivere al di sopra delle regole, che le regole riguardano gli altri e non noi stessi. Berlusconi è il campione di questa Italia, purtroppo è così, chi l'ha voluto è perché pensava che fosse più utile avere un capo furbo che un capo capace di chiamare i suoi concittadini al rigore di un atteggiamento etico, morale adeguato. Certo Berlusconi non è De Gasperi e noi avremmo avuto bisogno di avere un De Gasperi per poter affrontare una crisi che ha una proporzione davvero gigantesca, perché non siamo dentro una crisi di natura congiunturale, la crisi è strutturale, riguarda il mondo occidentale, riguarda l'Europa che invecchia e riguarda anche il nostro paese. Consumiamo di più di quello che produciamo e dobbiamo darci una regola nuova. Ecco, soprattutto la legge elettorale nuova. Questo porcellum, come è stato definito da uno dei promotori di questa legge elettorale, ovvero il ministro Calderoli, va cambiata immediatamente oppure ci sarà questo governo tecnico? Guardiamo veramente a quello che avverrà tra poco. Intanto la legge elettorale per cambiarla ci vuole una maggioranza in Parlamento e mi pare che Berlusconi e la Lega hanno detto che non intendono cambiarla, quindi è un fatto. Io lavorai diversa perché sono convinto che i cittadini italiani devono essere messi nella condizione di scegliere i loro rappresentanti. Per quel che riguarda la crisi, la crisi si formalizza se ci sono le dimissioni del governo e se si mette in condizione il capo dello Stato di valutare le decisioni conseguenti. Non mi pare che Berlusconi si sia dimesso, no? Quindi di cosa parliamo? Bene, saranno comunque sia i giorni a venire a decretare quello che in questo momento noi stiamo paventando, come sempre, dice il senatore Tabacci, che ringraziamo.